Bentornato Gutier, bentornata! Iniziamo questa nuova decade approcciando la sicurezza. Diamo qualche prima informazione su questo settore. Chi non ha mai avuto problemi di sicurezza in ambito informatico, solo ovviamente chi non è mai stato cosciente, chi non lo ha mai saputo. È proprio così, infatti. Se non sei conoscitore di un problema, di un potenziale danno, non puoi sapere di essere colpito a meno di eventi eclatanti. La penetrazione nel tuo computer di qualche programma dannoso o, peggio ancora, pericoloso, può essere talmente subdola da non essere nemmeno evidenziata a meno di operazioni particolari. Ma cos'è la sicurezza? In sintesi, significa mettersi al riparo e creare quindi le condizioni per ridurre al minimo, idealmente impedire che qualsiasi programma malevolo, in termine tecnico malware, possa contaminare il tuo computer e mettere a rischio la sua salute, quindi l'efficienza del computer e del sistema operativo e soprattutto la tua incolumità. Cosa si intende per incolumità? Non certo la tua persona dalla postazione dal quale ti colleghi ad internet, a meno di una futura interattività fisica. Se la contaminazione è indirizzata ad ottenere quante più possibili informazioni personali e dati sensibili, colui che invia il programma malevolo nel tuo computer tenterà di sferrare un attacco diretto proprio ai tuoi avere economici, come i conti correnti o carte di credito o prepagate o qualcosa del genere. Per fare ciò sferrerà l'attacco alla tua connessione oppure direttamente alla tua persona eseguendo operazioni via internet che saranno indirizzate proprio a te, oscuro e magari profano, nello specifico evento che si verifica in quel determinato attacco. Potenzialmente può accadere l'allontanamento o l'avvicinamento a questa eventualità dipende soltanto da te. Devi diventare un conoscitore, una conoscitrice del problema per poter prevenire, ma contestualmente devi anche diventare sensibile, scaltro, scaltra nel comprendere con una certa rapidità se eventualmente tali eventi si stanno scatenando e ti stanno piombando addosso. Lascia di fare questa serie di domande. Lasceresti la porta di casa aperta? Oppure, lasceresti la porta di casa chiusa ma con la chiave inserita all'esterno? O infine, andresti a vivere in una casa, in una zona dove i furti di appartamento sono quotidiani? Il senso di queste domande è per farti capire che a scopo preventivo non te la devi andare a cercare. Non temere, loro arriveranno da te, prima o poi transiteranno nel tuo computer, quindi innanzitutto non andartela a cercare. Dopo entrano in gioco quindi programmi e strategie che dovrai applicare, ma il primo passo dipende esclusivamente da te. Devi preoccuparti, ma sostanzialmente gli attacchi vengono realizzati se c'è un interesse da parte di qualcuno. Se hai qualcosa da poter offrire, allora certo preoccupati. Se hai poco da poter offrire, certo preoccupati. Se non hai nulla, praticamente impossibile, da poter offrire, allora non dovrai preoccuparti, ma questa è utopia, in quanto nel caso estremo già il tuo PC può essere un dispositivo che può tornare utile ad un malintenzionato per scopi loschi. Ne viene da sé che naturalmente grossi interessi producono grossi attacchi e anche qui una conoscenza maggiore permette azioni malevole migliori. Una persona che ha un po' di nozioni sarà in grado di realizzare piccoli attacchi, ma uno straordinario conoscitore informatica non metterà a riparo alcun utente, alcuna azienda dai suoi meriscopi. Alla domanda se esiste una soluzione definitiva, la risposta è sicuramente no. Nel campo dell'informatica mai si è sicuri, in quanto la non affidabilità è integrata nel processo stesso dell'informatica. È come dire di poter vivere una vita senza prendersi mai una malattia, nemmeno un raffreddore. Impossibile in quanto, biologicamente parlando, le forme di vita dannose a noi, batteri e virus, sono proprio compatibili con il nostro DNA, quindi con le nostre cellule e naturalmente si legano ad esse comportando effetti dannosi per la nostra salute in maniera più o meno grave. Lo scopo preventivo è stare alla larga da eventuali contagi e nel caso di infezione e contaminazione del nostro fisico bisogna agire per la loro eliminazione. Il discorso è applicabile anche nel mondo informatico. Evita che il tuo computer sia contaminato e nel caso ti scappi una contaminazione agisci per risanare la salute del sistema operativo. Come fai? Semplice, devi installare programmi di sicurezza. A seconda della versione del sistema operativo che utilizzi, puoi avere già integrato o meno uno o più programmi di sicurezza che possono anche avere diversi nomi. Il minimo sindacale si raffigura con dei programmi che evitano accessi indesiderati al tuo computer e mantengano sana la salute del tuo sistema operativo. Un ottimo antivirus e costantemente aggiornato ti permetterà di stare ragionevolmente tranquillo ragionevolmente. Altro programma di normale utilizzo è un firewall, ossia rappresenta un artificio software ma può essere anche hardware che tenta di impedire accessi indesiderati verso il tuo computer. Esistono poi una serie di altri programmi che combattono il malware in maniera specifica e che possono essere utilizzati come complemento ai normali programmi di sicurezza. Di norma questi programmi sono etichettati con il prefisso anti seguito dal malware a cui si rivolge la loro azione, ad esempio anti-spyware. Qual è il malware in genere? Senza fare una lezione di azioni dannose dei vari tipi di programmi, ti elenco brevemente quali dei programmi ci possono farmare. Naturalmente già avrai preso visione dei virus, altri chiamati worm vermi, altri troia nords che si inseriscono a nostra insaputa nei computer, poi ci sono i backdoor, i spyware dannosi per la nostra privacy, i dealer ormai verso l'era del tramonto ma comunque in alcuni casi ancora attivi, hijacker oppure ancora rootkit, scarware, rabbit, hardware, batch, keylogger pericolosissimi perché captano i tasti che sono stati digitati dalla nostra tastiera, in alcuni casi memorizzano anche tramite screenshot ciò che viene visualizzato a monitor, rogue anti-spyware e bomba logica. Come puoi vedere la lista è abbastanza lunga e ti simolo a scoprire pian piano il significato di questi singoli nomignoli già partendo dalla letteratura che puoi trovare in maniera molto ampia su internet. Pur essendo già corposi il guaglio che questi programmi aumentano sempre più, in quanto i programmatori diventano sempre più creativi e con lo stimolo di scardinare difese di vari sistemi producono varianti sempre più pericolose e complesse da arginare. In sintesi ecco alcuni punti secondo me che possono essere utilizzati per contrastare e arginare. Innanzitutto essere informati e poi rimanere informati, quindi essere costanti, poi naturalmente stare il più possibile alla larga da siti riconosciuti come pericolosi, poi non eseguire sostanzialmente mai dei click con superficialità quando si presentano notifiche o finestre varie, utilizzare programmi di difesa tenendoli aggiornati come abbiamo detto, eseguire saltoriamente una scansione tramite questi programmi o anche quando nutri qualche dubbio sulla salute del sistema operativo e non considerarti immune anche se la tua è una navigazione modello, quindi votata per così dire, passemi il termine, alla castità. Mai sottovalutare a riguardo appunto il nemico. Poi diffida di norma da quello che è troppo bello per essere vero. Sì, ci possono essere delle eccezioni, ma non è una consuetudine. Quando ricevi un'email leggila attentamente e prima di cliccare su eventuali link, eventuali collegamenti interni all'email venifica l'effettiva provenienza della stessa. Se devi testare dei programmi dubbi, utilizza sistemi di protezione aggiuntivi, artifici come le sandbox o programmi per la virtualizzazione del sistema operativo che più avanti tratteremo. Non memorizzare soprattutto mai il nome utente, la password, quando li devi inserire nei campi per accedere a un servizio. Di norma un segno di spunta è già preselezionato per memorizzare questi dati, oppure le impostazioni del browser di navigazione sono già settate per acquisire queste informazioni. Controlla naturalmente ciò prima di operare ed eventualmente deseleziona i campi in maniera opportuna. La naturale conseguenza di quanto appena detto è anche uscire dal servizio, quindi eseguire il processo di logout prima di chiudere il browser. Oltretutto quando navighi su dei siti all'interno dei quali dovrai inserire delle credenziali d'accesso o peggio ancora, inserire dei codici di sicurezza dei PIN, siti come Paypal, Banche, LaPosta, i negozi online tipo Ebay, assicurati in questi casi che l'indirizzo abbia il prefisso del protocollo di sicurezza HTTPS e non solo HTTPS. In mancanza verifica che se nelle impostazioni dell'account del servizio stesso puoi abilitare tale opzione, quindi indirizzare la navigazione sui protocolli di sicurezza HTTPS o in alternativa utilizza dei programmi di terze parti o componenti aggiuntivi del browser per realizzare questo tipo di navigazione. Ci tengo a sottolineare che questi discorsi sono utili essenzialmente a farti acquisire un'apertura mentale adeguata, un approccio al computer e alla navigazione in maniera corretta e consapevole dei rischi. Ricorda, l'anello debole della catena della sicurezza puoi essere proprio tu se sei un utente non formato correttamente. Con questo non voglio spaventarti, ma devi sapere che nessuna contromisura è in grado di proteggerti con sicurezza in maniera assoluta. Anzi, mi correggo, non utilizzare alcun dispositivo informatico e sottolineo alcun dispositivo informatico, forse può tutelarti. Termino invitandoti a leggere tre articoli eccellenti di qualche anno fa che sono scritti da Claudio nel suo sito navigaweb.net, i quali ci forniscono ampie informazioni sulla sicurezza durante la navigazione. Un primo articolo è riferito proprio a come navigare con i protocolli di sicurezza HTTPS sui vari siti bancari, negozi online, Facebook ed altri servizi con connessione protetta. Un secondo articolo è come abilitare la connessione sicura nel più diffuso dei social network per proteggere proprio il tuo account. Ed infine, come proteggere i conti di banca online da attacchi e truffe VML. Questi link li riporterò nelle informazioni del video che stai vedendo. Alla prossima lezione con nuove informazioni didattiche. Ora un forte saluto, ciao a presto da Claudio e alla prossima.